Non tornerò senza un vigilante nei turni di notte, lo ha detto al nostro microfono la dottoressa 32enne di Manduria che ha preferito rimanere in anonimato aggredita nella notte tra sabato e domenica scorsa da una famiglia nella guardia medica di Maruggio. Per questo la professionista specializzata in urologia dopo la denuncia ha deciso di dimettersi. Tanti i messaggi di vicinanza da colleghi dell'ambiente sanitario e dallo stesso direttore dell'Asla di Taranto, Gregorio Colacicco, che ha espresso la sua solidarietà anche a nome di tutta l'azienda. Servono risorse e reali misure di sicurezza per restituire serenità ai professionisti e arginare la fuga del personale sanitario, ha dichiarato invece il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici e dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, anche lui esprimendo vicinanza alla dottoressa. Una ferma condanna nel grave episodio di violenza anche dal Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto e dal sindacato della UILFIPL di Taranto, che chiede una costante vigilanza nei presidi di continuità assistenziale. Sia l'Ordine Professionale dei Medici che l'Asla di Taranto hanno preannunciato entrambi di essere disposti a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario. Intanto ad occuparsi del caso sono i carabinieri della stazione di Maruggio e di Manduria che hanno già individuato i presunti aggressori.